A voi studio Bene signori e signori qui al convento non solo festeggiati ma anche gente random Ciao, tu sei? Martina E? Chiara Di dove siete ragazze? Beh, di Cornedo Vicentino Spagnale Non ho la più pallida idea di dove siano questi posti ma meritano di essere raggiunti Guardate come cresce l'erba buona in questi posti Va bene ragazze Detto tutto ciò Voi stasera siete qua a un? A un compleanno Compleanno, auguri al festeggiato Auguri, auguri Fai casino No, non puoi fare i gestaggi Fai in mente sta roba Morco che hai perso un dito per strada Va bene, va bene Vi perdoniamo Detto tutto ciò Salutate i nostri amici a casa E vi vogliamo venire in un canino Ciao 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 Ciao